Salve a tutti, in questo video vediamo come disabilitare la riproduzione automatica delle anteprime su Netflix. Cosa bisogna fare? Allora innanzitutto bisogna loggarsi sul browser a Netflix e andare qua alla gestione dei profili. Quindi gestisci i profili e si aprirà questa schermata. Noi facciamo modifica sul nostro profilo, su quello che utilizziamo. Ed ecco che qua possiamo togliere o mettere la spunta su riproduci automaticamente le anteprime mentre sfogli su tutti i dispositivi. Quindi basta togliere questa spunta e fare salva. Semplicissimo. Qua c'è anche la spunta per disabilitare la riproduzione automatica dell'episodio successivo di una serie. Comunque questo consiglio di tenerla attivata non è fastidiosa. Quindi a questo punto se volete effettuare questa modifica anche su un secondo profilo andate all'altro. Quindi salvate, andate a modificare anche l'altro e togliete la spunta anche sull'altro profilo. Salva. Ecco fatto. Spero di essere stato utile. Un saluto a tutti.